dai dai mamma fuori onda ma sempre 29 minuti vabbè dai ciao e bentornati su questo video e su questo canale Barbie Family e niente ciao dai stiamo portandola ok vedo una busta si come vedete è arrivata una busta con dentro e con dentro e dai di te dietro parla te ok se mi dare busta no è vero scusa sia davanti che dietro indirizzi quindi non dare buste ok questa busta arriva da Pamela De Lorenzi alias puntaspilli la potete trovare su facebook su sito internet e anche tramite mail potete scrivergli comunque tutti i suoi indirizzi li scriverò nel box in descrizione così la potete trovare aspettala e vedere tutte le sue creazioni perché sono favolose e le fa tutte a mano ed è bravissima veramente brava compriamo molto spesso da lei perché ci piacciono tante anzi vorremmo guarda Simona non muovere troppo perché ci vorremmo comprare più roba però ahimè ahimè non sempre si può quindi ci dobbiamo limitare un po' e insomma però vi comprerei di tutto e di più comunque dai apri metti giù la bustina apri dovrebbe forzare fuori onda per lo sapere ok dai scendi giù dai apri apri l'ho lavata l'ho lavata allora guardate ragazzi abbiamo lavato i capelli abbiamo fatto col buono talco sì perché c'era tutta la colla terribile ho fatto ho messo sgrassatore con tutti i piatti di tutto ammorbidente il buono talco shampoo e balsamo sono venuti chiudere comunque lo shampoo e il balsamo Simona non lo devi usare sì lo so ma solo per un lavaggio non si usano vabbè oh il pacchettino guarda qua che caruccino ok lo apro infatti c'è thank you bello il bollino del thank you grazie a te non mi rompe il thank you grazie a te Pamela sei sempre formidabile bebe simona lo smalto ma ti mangi le unghie no si toglie dopo un po' non è che fu l'ingua nera lì non c'è voglia di toglierlo se sentite Alessia in sottofondo è perché sta giocando a fortnite sulla playstation ciao ciao che coperta avevi freddo ciao ciao e voilà sono riuscita a non romperlo grazie ciao ciao non mi sente vabbè ciao vetti giù intanto facciamo vedere ma come sempre il suo bel bigliettino da visita ciao puntaspilli moda per bambole di Pamela De Lorenzi and demand and demand ah duco e guardate che caruccio quello che vi faccio vedere sempre ma mi piace talmente tanto ma ragazzi guardate come è fatto bene cioè molto 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 bello qua ci sono tutti i siti dove poterla contattare facebook sito internet e email che poi questi qua ve li metterò anche nel infobox così potete cliccare comodamente e andare direttamente nelle sue pagine e che dire adesso vi facciamo vedere subitissimo cosa abbiamo acquistato vediamo voilà cappellino rosa shocking di un rosa sgargioante guardate che bello ragazzi io l'avevo detto che montavo i siti oh montavo montavo i siti bellissimo elasticizzato vai a vedere simona che è elasticizzato vedete è elasticizzato guardate le rifiniture le cuciture intanto che tu fa vedere io ho te guardate le cuciture come sono fatte bene ragazzi ma proprio fatte bene sembra proprio realmente bellissimo 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 mi piaccio dopo ops l'ho fatto vedere vabbè dai cosa hai fatto simona questo è l'altro cappellino è di un rosa più rosa più e vabbè è un rosa più pallido è rosa pallido sembra quasi bianco ma non è bianco ma è un rosa pallido uguale all'altro guardate le rifiniture ve le faccio vedere da qua molto ma molto ben fatto guardate non si vedono le cuciture ed è molto bello anche questo elasticizzato molto 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 bello dopo noi stoppiamo che vi facciamo vedere allora ragazzi eccola qua la vaglietta di boschino a maniche lunghe color rosa guardate come gli sta bene ha lo strappo dietro tutto dietro il velcro è bella aderente sto proprio bene ragazzi è proprio 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 bella guardate la scritta moschino che bella niente che dire Pamela sei sempre brava mi piacciono i lavori che fai metto link in descrizione come ho detto prima dove poterla contattare perché ne vale veramente la pena guardate ragazzi che bello comunque amici il video è finito ce ne possiamo andare a casa no siamo già a casa e ci vediamo forse a un prossimo video forse dico non si sa un domani non si sa ciao ragazzi